Catano Sarmento, altro atleta per quello che riguarda la Colombia di questi mondiali, prova per professionisti 29 settembre, intanto partecipare a un mondiale regala sempre emozioni particolari. Sì, veramente sono contento di fare parte di questa selezione quest'anno, già che siamo in nove, cercherò di farle la mano più possibile a quelle che saranno bene, quelli quattro, Enao, Nairo, Betancourt e Rigoberto, ci saranno due che andranno bene e si cercherà di fare un bel mondiale. Avete gli occhi del mondo puntati addosso perché si parla della Colombia come una delle squadre più importanti di questo mondiale? Sì, veramente abbiamo gli occhi punti tra noi, speriamo di muoversi bene, sapere di correre come squadra e fare le cose per arrivare alla fine con due di quelli che possono disputare il mondiale. Importante quindi avere anche un commissario tecnico italiano come Franco Gini che conosce il percorso, conosce anche le dinamiche, le tattiche molto bene. Sì, quest'anno abbiamo Franco a fianco come direttore e questo è importante per noi perché conosce il percorso, conosce tutti e poi conosce uno di noi da quando eravamo under 23 e allora ci conosce come possiamo muoverci.